Ricarico! Liberate l'aria dell'estruzione! Audio! Ricarica! Mister Gabli 7, easy! No easy no! No, no, te lo posso hai paruto! Giù è... Non ho tanto Gabli Energy Navigation Ah, dopo ti mando una cosa E' un dubbio! Aspetta! Oddio! Non la fai n'entri! E' libero! Attento però, aspetta! Non c'è nessuno Guardaci qua! C'è uno qua! Attento! Arriva, torna dietro di te! No, sei dietro! Minchia! Mamma! E' esplosto! Un'altra cosa! E' un dubbio! Un dubbio! E' un dubbio! Oh! Un dubbio! Un dubbio! Un dubbio! Un dubbio! Un dubbio! no no eccolo bello ragazzi non c***o non c***o bello tutto certo un nuovo caricatore non è attivato ricarica guarda questo stand per the game che mi ha visto è arrivato i 4 buono ricarico no adriamo in sight l'hai visto calva destra ricarico 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 amico rem ricarico 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 vabbè cinque quattro cinque uno zero no no è solo una cultura non c'era vecchio non sa che sono qua ultimo attaccante rimasto in vita ok ho capito da uno di vita ragazzi capita uno di vita vinceva uno di vita ci sono i gu morì con i gu fermo così e vince proprio l'unico modo è questo l'ho fatto otto ho sbagliato ora perdono non è morto vittoria alla difesa nemici eliminati otto due due già partito uno allora Alla prossima 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 Alla prossima